Prenditi Ma fai che ti inquadro Così Dai tieni Mi è arrivato una cosacca Mi è arrivato una faiacca, capisci? Minchia Giancarlo, che cazzo c'è io Giancarlo, ma che cazzo hai portato? Ma chi è? Ma cosa è sta a fare? Ma quella non esplode Oh, stai un po' fermo, questa è rotta la macchina fotografica Ok Francesco Questa cosa è quello lì rotto? Sì Da che parte sta c'è di qua? Sì Ma chi è che ha portato sta roba? Ma chi è questa? Questa è Salvatore Non c'è c'è Un po' Smette un po' Mhia che castagne Mhia che castagne, guaglio Ok, anche Nicola che l'anno scorso pure l'aveva portato Non so che cazzo Non so che cazzo Vai Monica No Ma sai che mi è arrivato? Ma sai che mi è arrivato? Guarda là Che troia Guarda Allora c'è certo che vogliono un fine Drogati Guarda 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 Guarda